Ciao bellezze, questo è un video super rapido per mostrarvi semplicemente delle cose che non mi servono più e che quindi sono in vendita. Premetto che ho fatto una sorta di sistemazione della postazione perché volevo girare un video e mi sono resa conto di avere tante cose che ho comprato e che nemmeno utilizzo. E quindi, visto che ci sono molte creative come me che cercano materiali, io li vendo quindi se vi possono interessare, premetto che non sono una venditrice ma ogni tanto acquisto cose che magari veramente non mi servono e quindi ve le vendo insomma. Parto subito dicendo che già da parecchio tempo sono inventate le bustine sul mio luogo di Facebook, ci sono queste qui che ne sono varie, poi ci sono queste qui, queste qui con l'orsetto e infine queste qui con le faccine. poi questo qui che è il filo armonico diciamo con cui potete fare questa sorta di cose insomma. poi delle bustine trasparenti enormi, altre bustine molto più piccole, poi varie cose come queste farfalle, questi ciondoli, questa spilla, altri cerchi, qua abbiamo delle monachelle, queste sono bronzo, dorate, abbiamo una base per bacciali vandora blu, delle catene di cotone verde e bianche, una spilla dorata, poi delle basi per cabochon di questo fronte retro, come vedete sempre bronzo, altre filigrane, poi delle basi fatte in questo modo, dei foam strap, completi di tutto, come vedete anche del moschettone, del filo cerato, questo è viola, poi questi cabochon in vetro, questa base per cammeo, queste due ali, delle torri Eiffel, questi sono bronzo, poi vari cabochon di questo tipo, dei set di tazzina rosa e aranzo, e per finire questi cabochon qui che si aprono praticamente, ne sono due, poi vabbè ci sono questi fiori di stoffa, come decorazioni di vario genere, come vedete, e nulla, è qualche altra cosa che praticamente adesso continuano a sistemare e penso che uscirà fuori, comunque questo è un po' tutto quello che potete trovare sulla mia paginetta, vi invito a cliccare su iscriviti e su mi piace, così da poter rimanere anche in contatto, vi mando un forte bacio e alla prossima, ciao!